ecco l'entrata in campo campionato regionale categoria juniors under 19 qua al comunale di ortona ortona calcio virtus castelfrentano adesso c'è la scelta del campo la virtus castelfrentano con la maglia la divisa rosa nero mentre l'ortona calcio bianco verde direttore di gara e della sezione aia di chieti in bocca al lupo ok